In cittura dell'Osatellum la castrazione ha pubblicato la riparruzione dei seggi, 12 quelli non ancora assegnati. Ad ogni modo la certesima legislatura inizierà ufficialmente il 23 marzo con l'insediamento delle camere. A presiede l'assemblea Montecitorio l'ex vicepresidente Roberto Giacchetti, a senato il presidente mento napolitano. Subito cominceranno le votazioni per i legge dei nuovi presidenti. A Palazzo Madama è previsto il valottaggio dal quarto sottilio. A Montecitorio servirà prima la maggioranza premitata, poi quella assoluta dalla terza votazione. Entro il 25 marzo la formazione dei gruppi parlamentari, a seguire l'elezione dei loro presidenti. Per fine mese, eletti presidenti delle camere, potrebbero arrivare le dimissioni del premier, precondizione di un'attività di votazioni al colle. E' difficile per il nuovo governo. E domani a Buenos Aires inizia il C20 finanziario. I principali temi sul tavolo sono la WebTax e i gassi americani verso la Cina, su cui l'amministrazione Trump ha confermato la sua chiusura. Gianchiero Scarvali. Dalla guerra dei gassi alla WebTax, sul tavolo dei cittadini arrivano a rinunire, di una crescita dell'economia mondiale che va a confiedere, come non si vedeva, dal 2000 euro. Appena arrivato a Buenos Aires, il sottosegretario al tesoro americano Malpasta annuncia la chiusura del tradizionale programma di dialogo economico tra Stati Uniti e Cina, accusata di conferenza teleale e di chiudere il mercato interno ai prodotti strani. Da qui la decisione dell'amministrazione Trump di imporre dati sulle importazioni di acciaio e alluminio. Scatteranno il 23 marzo. Misure direte principalmente contro la Cina, ma che hanno aperto in fronte anche con l'Europa, che prepara la controlla. Starete pronto, ma in un'altra, non si può essere specie da colpire tra i gini, agli e motocicletti. Starete pronto, ma in un'altra, non si può essere specie da colpire tra i gini, agli e aiutati. Ma quando si è piegata, si è piegata tipo così, i capelli vanno tipo così, lisci, come se fossero pieni di lacca, di gel. Che ho detto oggi, il sesso è stato mai nel culo, nell'alo, all'articiatore porno. Ma mai l'ho fatto, mi sono detto che non vedo niente di male. L'indagine non sarebbe mai dovuta cominciare, è basata su attività fraudolette e falsi dossier pagati da Hillary Clinton e dai democratici. È una caccia alle streghe, dice il Presidente, dopo aver rivolto i suoi 5 tiri contro James Comey ed Andrew McCabe. Ah, Twitter, sui 5 tiri contro James Comey ed Andrew McCabe. Il licenziamento del primo da parte di Trump, all'origine della nomina di Broller, risale allo scorso maggio, quello del secondo, invece. C'è la mia motivazione, 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 la mia motivazione. a destra e quella posteriore, poi la mia motivazione. Poi...le queste mani sui glutei, poi me li cacciavo, mi si è più pesante, e...baccetti intensi. Ebbene, adesso vai. Recipro, ci... Probabilmente, mi hai detto, faccio lanciare 10 volte. Non ho avuto manchi, hai più tango, no? Ebbene. Toglio bene io, la faccio subito. subito se tu è bene fammi dimostri sta zitta ma andrà lì sicuramente si abbassa come avete visto con i capelli come dicevo come? va bene mi devo operare ma non mi opero perché? non mi fa che schifo schifo no poveretto è vero? si la prendiamo si 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 E' qua? E' qua? Si Vai Ah 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 non c'è niente qui senti ma qui senti la fine ma si C'è la vostra dittima. Ah, già. Grazie a me lo scolari. Sì. C'è un po' là. Ah, questo. Perfetto. Perfetto. Buono, buono. 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 Buono! Sì, buono. 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 del nostro fisico britannico malato di sclerosi laterale amiotrofica morto alcuni giorni fa ricordato come esempio per le persone disabili a sempre la televisione nordcoreana e in antepegno al tg1 il nuovo singolo dei giornalisti questa nostra stupida canzone d'amore nel video l'attore alessandro gorghi paolo sommarulio massimo boldi se domani tu per caso sparissi e io non sapessi più con chi parlare vera che fai? non fai ciò? eh? che sei fatto? no non c'è cosa? non c'è bisogno di ignoti no non c'è bisogno di ignoti non lo so eh? eh voglio bene amore questo vediamo d'accordo amore ma com'è a me si mangiare l'amore un piccolo film con un protagonista d'eccezione alessandro gorghi accanto a tommaso paradiso che ha scritto il bergine e non c'è bisogno di ignoti e non c'è bisogno di ignoti mia mia vista la guardo lì ho fatto così che bello che ha allungato nel viso una pallata che anticipa il rischio del prossimo autunno di una delle meni tra le più amanti dal pubblico e quando è entrato la petrolio mi portava le pantone è fatto tipo hai la gratis di stile alcune volte quando fai le tue espressioni di allungare il muso tipo cammello qua io non mi chiedo tanto eh? voi mi parli ma almeno dormirebbe a stancarmi ad ascoltarmi va bene non mi chiedo molto va bene va bene mi interessa a me no tu ma Laura Pausini e la giornalista si un altro astronauta rientrato per la terza volta dallo spazio Paolo Nespoli Nespoli? ma sono trovate all'albero che ci c'era dallo spazio e poi avremo un altavolo meraviglioso fra gli altri vi dico soltanto la cinquantesima e com'è? e com'è? dimmi no e canta e e e e e e e il welfare in Europa e nel resto del mondo soprattutto al sostegno delle famiglie si il welfare uno può spiegare com'è il welfare come spiegarlo di Gran Bretagna stasera bene con questo non tutto ci fermiamo qui grazie per l'attenzione arrivederci 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 si ferma 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 si piedi uniti prima tipo come la ballerina che bella la gnina mi appare perché la costringo guardami mi guardalo a me però si che mi dispiace guardami si si guardami guardami si si come si fa? eh è la cosa più naturale del mondo così la si sono tutte le camere per ogni punto di movimento e di espressione no tutte le espressioni di quella giornalista di questa puntata anche fuori onda Fusili per FCT come mai non ho il cipolletto? come mai? è una sola qua che mi ha fatto forte cosa? c'è la sua botte no 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 si riparsa basta basta uno smile essere al passo con i tempi priceless buono buono non ho mangiato perchè ti ho detto uno perchè tu devi mangiare il primo no se lo vuoi non mi vanno no che so non mi fanno ancora no basta bai fanno ancora no basta bai fanno ancora no basta Il medicinale veterinario leggerà appuntamente il forno di vostro vivo. Riduce anche i rischi di le smettosi. C'è il consiglio del tuo veterinario. Ora, questo resto è liberi da 11.758 mesi. E liberi di doverci in vita. Da Vaglia. Che c'è, andò? Io figlio. Ciao, adesso guarda te lo dico. Tagli tempo. E non pubblicarlo dalle scelte per fare. Perché da quelle scelte verrà fuori il meglio di lui. E' un'altra cosa. Ci hanno emozionato. Quello che ha fatto anche il film della mala femmina, c'è. Odissea, quella con il naso allungato. Sembrava la narice destra a Teresa. Ma anche pippa. Così fa il tuo asquale. La cosa giusta. Perché quando c'era lui qua. Perché vai? Così fa? E parla. Qualcuno degli altri per dire. Gli sto cani dice cose intelligenti. Gli sto cani dice cose intelligenti. Gli sto cani. Gli sto cani. Gli sto cani. Non è che insiste. E tu dici non vuoi sentirti parlare perché voglio già registrare. Che tutto il percorso della deco di oggi. Forse potevamo farci. Ma non è andata a causa. Ho conosciuto un fotografo molto importante che mi ha chiesto di fare l'assistente. Il mio sogno, senza l'idea, non è successo. Che era bella questa. Allora, ti puoi scusare. Io ti sogniamo. Giusto? Puoi scusare. Che era bella quella all'inizio. Non vorrei che sia quella là. Quella femmina vista all'inizio. Era quella lì della cosa che uno mangia male. Di soli alimentari. Qua c'è Laura Pausini. Fa un film. Non alla violenza. No. Non alla violenza. Quindi poi si chiama quando la mamma di Teresa. Ha detto, il giottore Nerino non va. Che avete nel film, no? Lui l'ha sbagliato oggi. Nerino. Non devo dire. Si è bella perché la mamma di i tuoi parenti. Non devo dirlo. Paolo Nespoli. Lo spazio. Io sono uno dei bambini degli anni 60. Quindi per me lo spazio è ancora una dimensione incredibile. È una sorpresa meravigliosa. Ma lo spazio è Nespoli. Ci ricorda che dovremmo imparare a guardare le cose con un certo distacco. Dall'alto. Però appunto essere più sereni, meno divorosi. C'è tanta aggressività. Ma in questi giorni, peraltro si è ricordato Stephen Hawking, no? L'astrofisico che ha dedicato la propria vita a decifrare i misteri di un verso mentre noi non riuscivamo nemmeno a decifrare le istruzioni per la newsletter. Lui ha capito come si formano i buchi neri mentre noi non abbiamo ancora capito come è possibile che si formino le vette nell'asfalto di Ova. Ecco, per questo dobbiamo avere grande ammirazione per queste persone. e adesso noi introduciamo, ma prima devo introdurre, come dire... L'attrofisico che ha detto, gliene voglia di fare l'amore, no? Sono di questo modo. Vedete, tra i litigi, tra la durezza. Guarda, per esempio, che lì mi dovesse aprire, non ti arrabbiare. Puri se apri, perché non ti posso arrabbiare. Perché sono preso... Comunque... Che schiottura è qualsiasi che dobbiamo fare pure alla serata. E se io fossi il vicino di Tizzetto truccato, andrebbe bene lo stesso. A questo punto c'è il senso. Andrebbe nel fatto che ci sono un bimbo. E poi ci siamo al tavolo più tardi. Sai che c'è anche che si hanno un giogno al tavolo? Sai che c'è anche i vazzanicchi al tavolo? Sai che c'è anche il rettaberto al tavolo? Sai che c'è anche i giobbi comandati? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quindi... Quindi... Nina mia... Ha detto che vuoi fare l'amore? Tra la durezza, tra i litigi, tra l'archi che lo voglio bene. Perché io ho detto... Alla luce di tutte le cose dette e fatte fino a questo momento, che avete sentito dai video. Ma scusa, ma scusa. Ma scusa, tu vai dal barbiere, giusto? Perché sta... Per risparare. Sta andando a che in giro non si taglia tutto. Scusa. No, no, scusa. Non è... E tu quando vai dal barbiere, c'è la bella, non ce l'assi e mi tagliare. Il fumandolo, il fumandolo è bene sul filo. Eh, no. E il fenomeno su quello che... Cioè, se la bella c'è, lo c'è. Il fumandolo è... Il fumandolo è quello che con la sgarita. No, non è la sgarita. Allora, 20 e 41 e 20 del... Secondo te... 20 e 41 e 20 del... Secondo te, ci viene... 18, 3 del 2018. No, no, ma come c'è la resta? C'è la resta, c'è la resta. Cioè, a me fa mal di... Io soffre il mal di male. E c'è la tutti i giorni dove soffre il mal di interna. Se vuoi che glielo chieda? Glielo chieda. Va bene. Allora, stai un attimo qua con me, perché prima di farmi entrare, vediamo queste immagini dalla missione Vida, che riguardano per l'appunto Paolo Nescoli. Guardiamo queste immagini. Grazie. 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 Grazie.